E' Cristian Stellini a prendere il posto in qualità di allenatore, quindi di CT di commissario tecnico al Tottenham, al posto proprio di Antonio Conte che vi ricordo lascia a questa squadra calcistica. 10 o poco più giornate alla fine del campionato, Antonio Conte dunque fa un passo indietro, si rimette da questo ruolo, lascia la squadra di calcio in questione ottenendo la qualificazione in Champions League e lo stesso club lo ha voluto ringraziare attraverso un comunicato ufficiale che è stato poi diffuso, quindi diramato. E al posto di Antonio Conte arriva Cristian Stellini che prenderà in maniera piena la squadra in questione, in qualità di allenatore, CT, chiamatelo come caspita volete voi all'interno. Da Narrato Italiano è tutto, ciao a tutti.